Molte delle persone che ci seguono non hanno capito niente, è vero o non è vero? E' per forza che non capito, perché noi facciamo sempre giochi di parole, Antonio, forse non è chiaro. Allora perché ti ho detto sempre finisco di dirlo sempre. E dove? E quando? Perché? Un messaggio ai nostri haters, a quelli che scrivono che tu non vali niente, che tu sei un ubriacone, che tu non dici grazie, che cosa diciamo? Diciamo che è tutta una falsità, io ti dico sempre grazie, ti do rispetto, mi do rispetto e andiamo avanti. Capito? Andiamo avanti in tutto e per tutto. Molte volte noi giochiamo. Ma giochiamo sempre. Si tratta di enfatizzare, di porre l'attenzione su alcuni temi importanti, ma lo facciamo con ironia, scherzando. Sempre scherziamo noi. Se io ti mettessi un bicchiere di gazzosa e una bottiglia di birra, tu cosa prenderesti? Aspetta, ce l'ho. Ecco questo mi prenderei. Oggi berresti quello. E poi sai che faccio con la pena? Te la spunto al contrario. Ti va bene? Bravo. Te la spunto al contrario. Quindi la birra invece me la giri al contrario, perché non è più quella che tu gradisci. Ma c'ho la mia comara. C'ho la mia comara. Ti muoto con la mia comara. Mi stai muoto, cos'è quella? L'espulsione o un'ammunizione? Adesso è un'ammunizione. Ti muoto con quella. Ah, come abbiamo giocato sempre. E quanti ammunizioni devo accumulare per essere espulso? Ne basta un'altra metà. Aiaia, quindi siamo già ammuniti. Perché tu quella la passi davanti quando vieni qua. E quando tu vieni qua, tu la passi davanti. Io passo davanti? Sì, perché si trova prima dello Stato. E' un grande stabilimento. Non sei qua andato avanti? Ah, ho capito. Lo stabilimento era per ora. Tu li passi davanti, bello mio. Ma che stai facendo? Ti stai preparando per andare in palestra? Girati un attimo, che ho visto che... La maglia che mi hanno regalato loro. Aspetta, girati, che ho visto il disegno della tigre. Mamma mia. Ti stai preparando a tornare. L'uomo tigre è pronto per tornare sul ring. Ma quando andiamo, è sempre tanto perché... L'ho detto, il maestro me lo deve suonare a me. E io contraccambio diversamente. Eh? Tu hai da sé? Allora è così. Allora è da sé. Calmati, calmati, calmati. Meno esuberante devi essere. Meno esuberante.